sta andando Sebastiano Esposito al Basilea ne parliamo in questo nuovo episodio con questo format che avete molto molto apprezzato quindi abbiamo parlato di Lukaku di Mulattieri lo abbiamo fatto prima con un esperto di Premier League poi con un esperto di Serie B a grande richiesta allora oggi proseguiamo con Sebastiano Esposito purtroppo non è potuto venire in video con me però per realizzare questo contenuto ci siamo confrontati con un bravo giornalista svizzero Claudio Paronitti che ringrazio veramente per questo confronto su Sebastiano Esposito con lui abbiamo parlato ci ha dato ottimi spunti per poter realizzare questa analisi per poter parlare di questo talento che sicuramente è un talento sul quale tutti gli interisti puntano molto perché ha già fatto vedere delle cose molto interessanti e sta già facendo vedere delle cose molto interessanti anche in prestito al Basilea e allora non perdiamo tempo andiamo con ordine e parliamo di questa esperienza di Sebastiano Esposito attaclante classe eh duemila e due che dopo la scorsa stagione vissuta in prestito prima alla SPAL poi al Venezia in estate è girato al è stato girato al Basilea la formula è stata quella del prestito con un diritto di riscatto in favore del Basilea un diritto di riscatto che però può essere diciamo disinnescato dall'Inter facendo valere un'opzione che eh permetterebbe appunto all'Inter di non far scattare il riscatto da parte del Basilea una formula un po' complessa ma che sostanzialmente significa che l'Inter se vuole riporta a Milano Esposito eventualmente pagando un premio di valorizzazione al Basilea che ovviamente ha eh valorizzerà quest'anno il calciatore facendogli vivere una stagione da protagonista come quella che sta vivendo eh fino ad ora quindi l'Inter non ha assolutamente perso il controllo del cartellino di Sebastiano Esposito eh che al Basilea è stato accolto fin da subito in maniera molto molto positivo innanzitutto dalla squadra che sta vivendo un po' di delusioni negli ultimi anni ma poi anche dalla piazza stessa e dai tifosi stessi del Basilea anzi in brevissimo tempo ci hanno detto che eh è diventato un vero idolo da parte per i tifosi da quello che ci hanno detto appunto e eh un po' per l'hype comunque che c'è per un giocatore che arriva dall'Inter un po' anche per il suo modo di giocare eh senza risparmiarsi un giocatore che dà veramente tutto lo avevamo già intravisto anche nell'Inter e che ha dei colpi anche tecnici sicuramente molto interessanti a livello di rendimento esposito come vi abbiamo raccontato spesso è partito subito molto bene già nelle primissime gare col Basilea eh in Super League il campionato svizzero ha disputato sette partite con quattro reti eh segnate distribuite soprattutto nelle prime giornate e fornito anche due assist poi è stato protagonista anche nei turni di qualificazione in Conference League dove è stato sempre eh utilizzato decisivo contro lui Pest con due assist e poi anche contro Lamarvi molto molto prezioso mentre in Coppa di Svizzera invece purtroppo è stata un po' sfortunata l'avventura del Basilea che è uscito di fatto subito eh clamorosamente contro una squadra di terza divisione ed Esposito aveva giocato solo pochi eh minuti poi purtroppo è arrivato anche un infortunio un problema eh muscolare dal quale non ha recuperato ancora eh pienamente quindi ultimamente ha giocato veramente poco in ogni caso nonostante questi acciacchi il bilancio a livello numerico è già molto molto buono anche i tifosi stanno riconoscendo un buon rendimento la prima parte di stagione di Esposito consideriamo per fare alcuni numeri che eh se contiamo gol e assist insieme in generale Esposito ha permesso al Basilea di segnare un gol ogni novantuno minuti in campo che cosa significa in pratica con Esposito in campo tra gol e assist il Basilea fin qui è partito mediamente sempre sull'uno a zero come distribuzione eh diretta da parte del giocatore ehm dato molto interessante anche perché consideriamo che non sta giocando da prima punta anzi a livello di ruolo eh il tecnico Patrick Ruffman eh lo ha principalmente utilizzato da trequartista con grande libertà di movimento grande libertà di manovra e di svariare sulle due fasce e di cambiare anche ruolo sulle fasce eh qualora ce ne fosse bisogno per eh il lo schema tattico di questo Basilea che parte col quattro due tre uno principalmente e eh in questa posizione è il ruolo in cui sta facendo meglio e in cui ha ottenuto i migliori risultati a livello anche di voti in pagella oltre che ovviamente di gol e assist ha in poche occasioni è stato utilizzato anche come seconda punta in appoggio al primo attaccante solo in un'occasione invece da punta centrale e solo in un'occasione invece eh da esterno eh offensivo quindi principalmente trequartista con grande libertà di movimento in quella zona eh offensiva l'allenatore gli richiede soprattutto quindi di eh di muoversi e di creare difficoltà tra le linee di difesa e centrocampo della squadra eh avversaria e poi con i suoi mezzi tecnici importanti di andare subito a eh a cercare gli inserimenti dei compagni di squadra di fornire l'ultimo passaggio e quando si crea lo spazio giusto anche di andare alla conclusione verso la porta avversaria quindi una funzione di raccordo e di terminale offensivo molto molto importante dove sta rendendo molto bene soprattutto creando un buon feeling con Artur Cabral che è un attaccante eh brasiliano più centravanti sicuramente a livello di caratteristiche anche molto forte eh fisicamente sta segnando veramente a raffica questo anche per farvi capire un pochino eh la tipologia di calciatore con cui sta avendo una buona affinità e con cui eventualmente potremmo pensare di affiancarlo anche all'Inter come tipologia di attaccante. La domanda quindi che a questo punto immagino tutti quanti ci siamo fatti è che io quindi ho rivolto al nostro Claudio esperto di calcio svizzero lo ricordiamo è ma sta giocando in un campionato probante per la sua crescita questa esperienza che sta avendo al Basile è un'esperienza importante per poi approdare sul palcoscenico che a noi egoisticamente ci interessa di più ovvero la Serie A e quindi l'Inter la risposta è stata una risposta sincera da parte di eh di Claudio che ci ha detto che il campionato svizzero si sta a livello tecnico eh abbassando da qualche anno a questa parte eh nonostante comunque eh la nazionale stia facendo molto bene purtroppo l'abbiamo visto eh però ehm secondo il nostro interlocutore appunto il campionato svizzero è un campionato che si sta espandendo comunque che sta avendo un ruolo importante nella formazione prima del passaggio prima dell'approdo poi nei top campionati europei l'affinità maggiore è tra la svizzera e poi il passaggio in Bundesliga eh probabilmente però è un campionato che sicuramente eh garantisce un buon livello di formazione per i calciatori e quindi è sicuramente un campionato probante da quello che eh che ci hanno detto per Sebastiano Esposito. Per approdare in Serie A però ecco il giudizio al momento è diciamo leggermente sospeso nel senso che bisognerà vederlo poi all'opera per il resto della stagione. Ad oggi il il parere è giustamente ed ovviamente ancora parziale. Le potenzialità per quello che ha fatto già vedere ci sono tutte. Eh bisognerà vederlo soprattutto dal punto di vista fisico della tenuta fisica e della continuità di rendimento eh però il tecnico Ragman gli sta dando eh veramente molta molta fiducia cioè al al Basilea puntano veramente eh su di lui quindi se non avrà problemi fisici durante il resto della stagione eh questa sarà un'annata che lo formerà molto dal punto di vista caratteriale dell'esperienza del dover sgomitare appunto per essere titolare in un campionato eh comunque di prima fascia e allora in chiusura il giornalista Claudio Paronitti si sbilancia a livello di giudizio abbiamo chiesto ma secondo te sarà pronto poi per arrivare all'Inter oppure no e eh ci ha detto che secondo lui se continuerà sulla strada di quello che ha fatto vedere nella prima parte di stagione addirittura già al termine di questa stagione quando avrà essere un classe duemiladue di fatto vent'anni ehm sarà ad un livello tale per cui può essere concretamente preso in considerazione dall'Inter per entrare a far parte del pacchetto degli attaccanti che comporranno la rosa della prossima stagione. Poi ovviamente dipenderà tutto dalle scelte che che farà Inzaghi e dalla fiducia che Inzaghi o qualsiasi altro mister ci sarà vedremo nel futuro eh cosa accadrà eh la fiducia comunque che l'allenatore vorrà dare a Sebastiano Esposito e anche quella che sarà la composizione dell'attacco. Questo quindi è il punto della situazione attuale sul giovane Sebastiano Esposito in prestito eh al Basilea eh un'analisi vista dagli occhi e dal confronto che abbiamo avuto con un esperto quindi di calcio svizzero che ringrazio di nuovo per il confronto le tante indicazioni eh preziosi e fatemi sapere che ne pensate anche voi mi raccomando fatemi sapere se state seguendo Esposito in questa avventura in prestito scrivetemi nei commenti se lo vedete in futuro nell'attacco dell'Inter quanto eh prossimo questo futuro. Prima di salutarvi vi ricordo che abbiamo rinnovato la home page di Passione Inter punto club quindi fateci un salto vi lascio anche il link in descrizione per entrare a far parte del club di Passione Inter se questo format che abbiamo rinnovato vi vi è piaciuto dopo Luca Comunattieri oggi abbiamo parlato di Esposito come ci avevate richiesto voi fatemelo sapere con un bel mi piace che non fa mai male anche a questo episodio e nei commenti se siete arrivati fino a questo punto mettete l'emoji del quadrifoglio è un po' l'emoji standard quando parliamo di giovani talenti sui nostri canali quindi aspetto anche l'emoji del quadrifoglio nei commenti io vi ringrazio per avermi seguito fino a questo punto ci vediamo in diretta come ogni giorno alle ore 19.30 sul canale YouTube e poi nelle prossime ore attenzione non perdetevi sui nostri canali nelle prossime ore nuovi ospiti speciali e nuovi format molto particolare quindi restate connessi vi ricordo che se vi iscrivete ed attivate la campanella non vi perdete neanche un video quindi vi aspetto sul canale e nel club di Passione.